Il 2022 è stato un anno turbolento sui mercati, però è possibile affermare che l'Eurozona tutto sommato è uscita abbastanza bene da questa crisi? Sì, certo, ma questo è successo grazie agli sforzi che sono stati fatti prima. Come sempre la preparazione ha pagato e l'Europa che si era rinforzata da un punto di vista di strumenti, a partire dal Next Generation EU, per andare al famosissimo PNRR, per andare per esempio allo strumento di supporto tecnico e a tanti altri. Questo ha permesso all'Europa non solo di fare la ripresa che tutti speravamo nel 2021, ma anche una volta arrivata la guerra inaspettata nel 2022, di dimostrare una resilienza che altre economie non hanno mostrato o che magari anche i nostri cittadini non si sarebbero aspettati. Direi che questo è stato sicuramente un risultato importante, per esempio sul mercato del lavoro, la cosa che più interessa alla gente sul mercato del lavoro e in generale sul PIL, dove alla fine il risultato finale del 2022 è stato più positivo di quello che tutti i previsori, il consensus dei previsori aveva in mente all'inizio del 2022. Arrivando al mercato dei capitali, anche su questo fronte c'è stata forte instabilità, però le organizzazioni, le autorità sono concordi sui passi avanti che devono essere fatti per aumentare la loro competitività. Sì, guardi, io sono molto felice del convegno di oggi fino ad adesso, perché chiaramente il convegno di oggi ha dimostrato, uno, che era un tema utile che bisognava affrontare, quindi abbiamo fatto benissimo ad affrontarlo, e due, ha mostrato una vera convergenza tra le varie posizioni. Adesso dobbiamo sentire ancora i portatori di interesse, gli stakeholders, però direi che tutta la discussione a livello istituzionale e a livello di infrastrutture di mercato fino ad ora è stata abbastanza convergente sul fatto che bisogna cercare di fare in modo che il risparmio privato, la domanda, come si diceva oggi, arrivi nei mercati, che quindi costituisca l'infa vitale per la crescita delle aziende, e due, direi che tutti hanno invocato una semplificazione degli oneri, lato senso, quindi dei costi, degli oneri, delle regole, eccetera, eccetera. Sono tanti aspetti discussi, dalla vigilanza, all'azione a voto plurimo, tanti altri aspetti, secondo lei quali sono quelli più urgenti? Guardi, è difficile dire quali sono più urgenti, a me quello che preme molto è che ci sia un equilibrio nell'azione. Io dicevo stamattina che ci sono tre aspetti che sono tutti e tre molto importanti. Uno è sicuramente quello del business environment, dell'ecosistema, come si dice, l'altro è certamente quello delle regole, dicevo prima, chiare, semplici, applicabili, e il terzo quello della vigilanza adattata alle regole, chiare, semplici e applicabili.